Questo è un pezzo unico, è il Macio con Carlos Monzon, è un vecchio, un pugile e è l'unico film che ha fatto, quindi questa è rarissima. La collezione parte dagli anni 50 e arriviamo fino agli anni 80, perché tutti quelli degli anni 80 in poi, vicini agli anni 90, sono quelli fotografati. Un volume danneggiato da insetti xilotici, divoratori della carta, quindi come potete vedere è stato danneggiato un po', questo per via dello stato di degrado è uno degli esemplari impossibili da restaurare. Gli ho tutte perché sono un'appassionata di carte, fin da piccola, poi dopo ho incrementato la mia collezione e poi è il migliore regalo delle carte da gioco salentino. Questi sono origami modulari, cioè composti da più fogli di carta piegate sempre uguali e incastrati tra loro, senza colla. Invece posso avere i modelli origami a foglio unico, con un solo foglio, senza tagli, per esempio è un cagnolino. Questo è un unico foglio di carta. Già vedi la carta di riso, parliamo di 1858 Napoli, che Napoli in quel periodo era regno, perciò tutte le cose più importanti venivano fatte per Napoli. Grazie a tutti per aver guardato il video,